ciao a tutti amici ciao a tutti allora faccio questo piccolo video per mostrarvi che i bug relativi a caio nella versione senza elmo sono stati risolti allora come possiamo vedere abbiamo le mosse le due mosse aggiuntive in alto al centro energia demoniaca bassa energia demoniaca alta che mancavano proprio cioè le mosse c'erano ma non erano aggiornata la command list e quindi andiamo a vedere queste mosse prima sto facendo una prova contro ogai in questo splendido fondale il fondale che uso di solito per fare i video allora vediamo un po quindi abbiamo energia demoniaca bassa con hp ok e abbiamo la versione alta con lp poi allora c'era la reversal che non funzionava nel senso che non si riusciva a prendere l'avversario ed era blocco e strangolamento allora vediamo un attimo dove devo farla con una mano porca puttana allora deve essere con h cos'è hk ma vediamo se riusciamo a farla ecco cazzo vediamo un po se riusciamo a farla ma porco due eccola sei diventato forte ok tra pochi attimi le tue ossa e la tua carne si mescoleranno per sempre con il fango e beh ragazzi e beh ragazzi devo dire che era è una mossa figa cioè insomma era era un peccato non averla vista l'altra volta comunque questa dimostrazione che lst appena vi trovo qualche bug insomma li mettono a posto quasi subito quasi subito vediamo la mossa lambriutempa che avevamo provato con kenshiro contro kenshiro che non tornava più giù dopo che ha preso le mazzate vediamo se la cosa è stata risolta quindi con hp aspettate un attimo spettacolo ragazzi ok vediamo se l'avversario scende madonna vediamo se l'avversario scende per forza ok bene bene io direi che che ci siamo ragazzi altre mosse mi pare cos'era caio invincibile forse che dovevamo rivedere non ricordo però e lo rivediamo lo stesso con lk tu eri convinto di essere invincibile porca vacca allora e a volte ragazzi le mosse con caio con questa versione di caio specialmente le super non riescono al volo non capisco come mai eccola qua rincibile e si perfetto perfetto allora ci siamo ragazzi ci vuole un po di tempismo per fare le mosse ci siamo ragazzi direi che possiamo concludere questo video e sono contento insomma che i bug siano stati risolti vi aspetto ad un prossimo video una prossima live ciao ciao un abbraccio